Qua ho preso le tende che riprendono il colore della camera, poi questa parte qua è tutta nuova, qua su ho messo maglioni, pantaloni, tute, intimo, ecc. In queste scatoline qua che ho preso dai cinesi ho messo orecchini, collane, anelli, braccialetti, orologi, ecc. A parte angolo, partendo dall'alto, ho tutta la mia collezione di maglie di Hard Rock Cafe con alcune maglie che avevo realizzato io per i concerti. Qua ci sono pantofoline, qua ci sono le mutande, qua ci sono pigiami, shorts estivi, qua ci sono pigiami per l'inverno, qua ci sono pigiami per la mezza stagione. Siccola parte, qua su ci tengo tutte le vestaglie che sono molto grosse, che non entrano negli armadi sopra, e qua invece tengo tutte le mie camicie cose più lunghe, e qui c'è il kit di cuscito della mamma. L'angolo, che doveva essere una cabina armadio, c'è un purpurre di cose. Allora, qua ci sono tutti i giubbotti, gadget di concerti, qua ci sono i cappotti, ne ho tantissimi, mi piacciono un sacco. Qua ci sono giacche, vestiti, vestiti lunghi, altre tute, jeans, e qua invece ho le varie sciarpe, un paio di scarpe che mi sono dimenticata di mettere a posto. E qua ho altre cose, sinceramente non mi ricordo cosa. Questa è un overview totale. Ho questo mobilino di Ikea, principalmente per poter piazzare la stampante, qui ci sono non tutti i miei libri, ma quelli che ancora devo leggere. Qua ci sono alcune cose che mi hanno riportato da Disneyland Paris, come potete vedere ho Aurora, Belle, Biancaneve e Cenerentola. E invece qua sotto ho messo la carta per la stampante. Qua c'è la mia borsa che in realtà dovrebbe stare lì, dove ho messo due attaccapanni. E poi c'è questo piccolo mobiletto che si apre e io lo uso come comodino. Qua c'è la sezione di scatole di scarpe, perché mia mamma ha deciso di tenerle nelle scatole, non so perché. Poi ci sono alcune pantofole che ormai non mi stanno più. Questi sono stivaletti con il tacco, stivaletti con il pelo e questi vi salvano la vita se avete freddo d'inverno a piedi. Li ho presi da Decathlon e praticamente sono come solette, però sono surriscaldate, vi salvano la vita. Beh, qui c'è veramente poco da dire. Qui ci sono tutte e tutte le mie converts di qualsiasi colore, credo, esistente nell'universo. Lilla, rosa chiare, rosa ancora più chiare, blu, blu, scure, ocra, gialle, salmone, rosa antico, turchese, lilla, bianchissime. Ce ne sono di tutti, 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 tutti i tipi. Queste sono tre scatole enormi che non riuscirò mai a farvi vedere. Ci sono tutte, 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 tutte le mie borse e zaini, però principalmente borse di ogni colore, misura, modello, di ogni materiale possibile e immaginabile. Sono piene e sicuramente dovrò comprarne altre. Il momento che tutte stavate aspettando la mia nuova vanity, adesso mi avvicino e ve la faccio vedere più nel dettaglio, senza rimanere accecata. Un mini carrellino di Ikea, dove ho messo principalmente le cose che prendo subito a portata di mano. Faccio lettini, dischetti, qua ci sono i miei occhiali, qua c'è il mio salbadanaio. E lì ho preso dei quadri, quello di quando ero piccola, quello del corso di Martina, ciao Martina. E qua quello di quando ho incontrato Clio. Poi qua ho messo i profumi, qua ho messo le mie adende e qua ho messo i camioncini e qualche oggettino Disney. Quel coso lì in realtà si può tirare giù, ma ancora non so cosa metterci. Qua c'è il libro di Simon 91 che sto leggendo. Poi qua ho attaccato i specchietti, quelli che avevate già visto di Ikea. Ho messo la rossettiera con i prodotti di Clio Makeup principalmente. Tutti i rossetti liquidi che possiedo, ne ho quasi tutti. Qua giù ho messo i pennelli che devo ancora lavare. Poi qua ho cercato di dividerli in maniera più razionale possibile. Quindi qua nel centro ho messo correttori e fontinta. Allora chiedo scusa, mi sono dimenticata di scrivervi le didascalie nelle due ultime storie. Comunque qua c'è la mia cassettiera Alex da 5 di Ikea. Rimane invariata, rimane tutto così com'è per ora perché ancora mi devo... Grazie. 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 Grazie.